A turno stanno... Quella era lì bella di dolore Gagliardi Ce n'era una ieri che si metteva su due piedi dritta Guardate i pescettoni Questa però è liscia Quale? Sì, quello là sì Questa è lì 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 Questa è la mia Questa è la mia Questa è la mia Questo si mette in dritto, sì. Guarda, 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 comunque questi due qui sono tremendi, eh. Vedi molti brevi, così fa troppo lungo. Che fa? Come che fa? Per vederlo tutto quanto. Guarda, guarda.